Twin3 Ti informiamo che il 16 marzo dall'unione di Wind e 3 nasce Wind3 per essere molto più vicini con la rete più grande d'Italia più che sei un nostro cliente avrai tanti vantaggi inoltre manterrai lo stesso numero senza cambiare stima e continuerai a beneficiare della tua offerta e dell'eventuale credito residuo per maggiori dettagli sulla nuova Wind3 digita zero altrimenti rimani in linea Grazie a Wind3 potrai sperimentare un'eccellente qualità nella navigazione con velocità di download e upload di altissimo livello per te solo vantaggi manterrai il tuo numero senza cambiare stima e la tua offerta e il tuo credito residuo rimarranno a tua disposizione come sempre in più dal 16 marzo se hai una tariffa promozionale verso i numeri del tuo operatore 3 questo beneficio si estenderà alle chiamate verso tutti i numeri Wind3 ma non è tutto nei prossimi giorni scoprirai le ulteriori sorprese a sé riservate Wind3 nasce per essere molto più vicini perché crediamo nella tecnologia e nell'innovazione ma crediamo soprattutto nella rete più potente di tutte quella delle persone per riascoltare il messaggio digita 8 altrimenti rimani in linea